Ciao a tutti, con questo video voglio farvi sapere che la Kawaii Box mi ha gentilmente contattato per fare un giveaway con voi e quindi niente, sotto nell'info box vi lascio il link per partecipare, ogni finestrella a cui partecipate vi darà una possibilità di Vittoria e niente, con questo vi dico che avete solo 17 giorni per partecipare, quindi partecipate numerosi e in bocca al lupo, niente, con questo vi mando un bacio, ciao e alla prossima!